Ben trovati ad un nuovo numero di zoom in, il nostro spazio di approfondimento, oggi una edizione davvero particolare, intanto sto per salutare il nostro ospite, si tratta di Angelo Panzone. Grazie per avermi invitato. Grazie per essere venuto nei nostri studi, perché ci presenterà un libro, lui non fa lo scrittore di professione, però ha una grande passione, una passione che ha condiviso con il libro, che è stato scritto a quattro mani, ha condiviso con un suo amico. Di cosa parliamo? Sapete tutti come nel gergo comune ci sia l'espressione lavarsene le mani, e molti sanno anche che questa espressione è legata ad un personaggio, che è quello di Ponzio Pilato, che entra nella trama, diciamo così, della passione di Gesù. Perché vogliamo parlare oggi di Ponzio Pilato, cioè di quel personaggio che alla fine, insomma, non si è preso lui stesso la responsabilità di portare Gesù Cristo alla crocivissione, ma ha lasciato che fosse poi il popolo a farlo. Perché Ponzio Pilato ha, o forse sarebbe meglio dire, avrebbe delle origini abruzzesi, e più precisamente a Bisenti. Leggenda o realtà? Ne parliamo proprio con Angelo Panzone, che insieme a Graziano Paolone ha scritto un libro, Io, Ponzio Pilato, di Bisenti. Intanto, realtà, leggenda, dove finisce la realtà, dove inizia la leggenda, o viceversa? Sì, hai detto molto bene, perché essenzialmente si tratta di una leggenda, una leggenda che risale a tantissimi anni or sono, se pensiamo che la prima volta è stata riferita per iscritto su una rivista nel 1898 dallo scrittore Castagna, e poi da quella volta in poi altri autori, altri studiosi se ne sono occupati, fino addirittura anche a Mike Boggiorno, che in una sua trasmissione radiofonica nel 1959, una trasmissione ovviamente a quiz, il genere che faceva lui, trasmissione intitolata Il Gonvalone, fece come domanda, una domanda sulle origini e sui natali di Ponzio Pilato, e la risposta ovviamente era Bisenti. Ecco, per quei pochissimi che non lo sapessero, ma noi siamo visibili anche in streaming, siamo visibili anche su YouTube, Bisenti, paese in provincia di Teramo, della Valfino. Certo, sì. Quindi, dicevo, si tratta sicuramente di una leggenda, però con l'amico Graziano Paolone, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di andare a trovare un po' quegli elementi di carattere storico che potessero quantomeno supportare la leggenda stessa, perché, come sappiamo, la leggenda di Norma generalmente è un misto fra realtà e fantasia, cioè la leggenda è di per sé una storia fantastica, alimentata dalla fantasia, soprattutto la fantasia popolare, che però spesso ha dei riferimenti storici, riferimenti alla realtà. Quindi il nostro lavoro è consistito proprio in questo. E abbiamo giocato un po' sul filo del rasoio, come si vuol dirsi, cioè su quello che è il confine fra storia e fantasia. È venuto fuori. Per essere più che fantasia, diciamo così, realtà. Quali sono gli indizi, gli elementi che voi portate nel libro, affinché, insomma, si possa arrivare a pensare che Ponzio Piato abbia avuto delle origini abisenti? Allora, più che indizi, parlerei di curiosità, perché questo proprio per non indignare gli storici, gli studiosi di storia... Questi sono un po' più scettici? Sì, sono scettici, ma questo, ripeto, non è un trattato di storia. E gli indizi sono molteplici. A iniziare, ad esempio, dalla presenza nel nostro paese di un CANAT, cioè un sistema idrico che... E a questo si riferiscono le immagini? Sì, stiamo vedendo proprio Graziano Paolone che si sta calando nel CANAT. Un sistema idrico che veniva adottato soprattutto nei paesi medio orientali per il vettoriamento delle acque potabili dalle sorgenti fino ai punti di erogazione, di utilizzazione. E la curiosità è che a Gerusalemme esiste un CANAT del tutto identico, sia per quanto riguarda le questioni squisitamente costruttive che anche per, diciamo, quello che riguarda la configurazione in genere, esiste a Gerusalemme un CANAT del tutto identico a quello di Bisenti. La leggenda cosa vuole? Che Ponzio Pilato tornando, diciamo così, nella sua terra natia abbia importato questo tipo di sistema. Certo, è plausibile che possa essere avvenuto ciò anche perché sappiamo che i romani avevano dei sistemi idrici del tutto differenti. Siamo tutti ingantati da quei bellissimi acquedotti romani fuoriterra con quelle belle arcate. Quindi i romani non facevano acquedotti sotterranei. Ma un'altra particolarità di questo acquedotto è che i cunicoli del CANAT di Bisenti casualmente transitano attraverso quella che i bisentini indicano, o meglio la tradizione popolare indica essere stata la casa di Ponzio Pilato. Quindi, come dire, lui era l'unico ad avere l'acqua in casa. C'è da dire che però comunque non aveva trascurato il popolo in quanto poi il CANAT va a sfociare in un terminale che è una bellissima fondanea dove tutti possono attingere acqua. Oggi stesso il CANAT ha la sua portata immutata nelle stagioni. Ci sono altri elementi che poi associano Ponzio Pilato al paese di Bisenti? Ci sono numerosi altri elementi. Io vorrei continuare ancora a chiamarli curiosità. Molti ci dicono, ma come è possibile che un funzionario di stirpe sannita perché la Gens Ponzia era sannita come è possibile che sia finito a Bisenti? È possibile perché abbiamo visto che fra i cesaricidi quindi risalendo alle idi di marzo nell'elenco dei cesaricidi c'è anche un tale Ponzio Aquila e sappiamo tutti che quando a Roma dopo l'uccisione di Cesare si ristabilirono gli equilibri sociali e politici per evitare ulteriori fastidi a livello proprio sociale quelli che erano stati i cesaricidi furono esiliati, allontanati da Roma e allontanati anche dalle loro zone di origine e quindi non è da escludere che Ponzio Aquila che dopo tra l'altro morì nella battaglia di Modena si trasferì con la sua famiglia a quella che era allora il municipio o la colonia di Beretra e lì essersi trasferiti a Beretra è proprio lì che è la chiave di volta della leggenda perché l'altra domanda che ci fanno ci dicono ma come è possibile che un militare non chiamiamo nemmeno funzionario perché di per sé Ponzio Pilato era un militare che viveva poi diventato prefetto a cui sentosi l'incarico come è possibile che un funzionario romano residente nella sperduta Beretra quindi lontano dal centro, da Roma abbia potuto ottenere questo prestigioso incarico è possibilissimo perché Beretra allora era al cuore, nel cuore della cosiddetta Palestina Piceni che cos'era la Palestina Piceni? nella zona del basso Terramano soprattutto erano arrivati molti secoli prima questo di Pilato parliamo di cinque secoli prima nel 560 avanti di Cristo delle popolazioni transfughe dal Medio Oriente dalla terra di Canaan perché già da allora quei territori erano molto perturbati a livello sociale perché c'erano diverse etnie sempre in lotta si scontravano fra di loro e quindi c'erano dei veri e propri esodi molti molte popolazioni preferirono seguire le rotte del sud quindi andarono verso l'Africa e si stabilirono in quella che oggi è l'Etiopia dove ancora oggi abbiamo i falashah che sono gli ebrei neri perché poi si sono integrati con la popolazione altri invece preferirono seguire le rotte del nord e quindi si avventurarono per l'Adriatico e sbarcarono nei vari porti uno dei porti dove sbarcarono maggiormente fu proprio il porto sul Matrinum che è questo dove abbiamo oggi la torre di Cerrano e da lì quelle popolazioni andarono a sistemarsi a stanziarsi risalendo le valli e la valle più favorevole essendo sbarcati qui nella torre quella che è l'area del Cerrano la valle più favorevole era quella del Saline e poi a proseguire quello del Fino quindi in questi territori c'erano delle popolazioni già radicate da 5-6 clipi prima di popolazioni di etnia ebraica diciamo così e quindi Ponzio Pilato era cresciuto in un ambiente che nel frattempo veniva chiamata Palestina Piceni dove pullulava la cultura ebraica quindi lui conosceva alla perfezione quelle che erano le abitudini e le tradizioni del popolo che doveva andare a amministrare se non addirittura conosceva anche la lingua l'aramaico avete realizzato anche delle immagini perché nella festa del vino montonico che insomma caratterizza ogni anno ormai da diverso tempo a questa parte da oltre 40 anni da oltre 40 anni il comune di Bisenti avete proposto anche una sorta di non so che dire rappresentazione rievocazione dei tempi di Ponzio Pilato Sì questo dobbiamo ringraziare l'associazione culturale quasi adatti sono dei ragazzi molto attivi che hanno curato questa rievocazione che in quell'occasione diciamo è più una parodia essendo ambientato in una festa che diciamo più popolare che riguarda il vino però abbiamo intenzione io e Graziano di realizzare dal nostro volume un testo teatrale in cinque quadri con il quale vogliamo raccontare in maniera itinerante per il nostro paese la storia la leggenda di Ponzio Pilato così come l'abbiamo vista noi Un ultimo aspetto prima di andare alla conclusione di questo nostro appuntamento siccome ci sono altri comuni altre località in Abruzzo che rivendicano i natali le origini di Ponzio Pilato in che rapporti siete appunto con questi altri comuni sicuramente non c'è rivalità anzi annuncio già che abbiamo organizzato una disputa una disputa ovviamente simpatica che si deve risolvere insomma in qualcosa così di spassoso con gli amici di San Pio di Fontecchio che è un paese che rivendica i natali nell'Aquilano soltanto che già da adesso annunciamo agli amici di San Pio di Fontecchio che la nostra leggenda è molto più articolata perché qui abbiamo poco spazio abbiamo potuto parlare di pochi elementi ma ce ne sono tanti altri cioè presemente voi dite rispetto alle rivendicazioni che fanno altri altri comuni là il vostro il vostro percorso è costellato di aneddoti e di curiosità molto più articolate rispetto ad altri posti sì sarò campanilista però insomma lo studio che abbiamo fatto per questo dobbiamo ringraziare l'editore ricerche e ritenzioni è molto articolato e i telespettatori a casa se vorranno acquistare faccio pure un po' di pubblicità l'intento poi è quello anche di suscitare di creare no della curiosità saranno loro a giudicare la validità delle teorie che abbiamo ipotizzato anche perché insomma per i tanti credenti comunque Ponzio Pilato è un personaggio che comunque fa parte della passione di Gesù rientra in quel percorso e lo abbiamo detto all'inizio è un personaggio che viene comunque sempre resta nel gergo comune quando si usa l'espressione di lavarsi le mani non so se ho ancora dello spazio però anche qui è possibilato un personaggio che è stato fra virgolette capito poco perché ne parlano poco gli storici ne parlo soprattutto per il periodo della passione però pure il gesto di lavarsi le mani che viene ritenuto oggi un gesto negativo cioè lavarsi le mani vuol dire dissimilizzare non interessarsi e non prendere una posizione su un certo argomento anche lì non è che vogliamo fare una rivalutazione del personaggio però lavarsi le mani anche lì lui si riporta a quella che era la sua cultura perché abbiamo detto che lui abitava nella Palestina Piceni dove erano diffuse le tradizioni ebraiche e il gesto di lavarsi le mani era un gesto e ce lo dice il Vangelo di Marco un gesto tipico degli ebrei erano le cosiddette abluzioni purificatorie cioè gli ebrei per qualsiasi cosa dovevano fare dovevano fare il pane si lavavano le mani per togliersi dei peccati e fare in modo che quel cibo non fosse contaminato fosse puro quindi lui quando si lava le mani non è che si sta disinteressando lui è cosciente che sta facendo un gesto che non va fatto e per questo si lava le mani per purificarsi da questo suo gesto sbagliato va bene penso che insomma abbiamo dato diversi elementi per suscitare la curiosità dei nostri amici a casa quindi chi volesse può può diciamo soddisfare queste curiosità attraverso la pubblicazione io Ponzio Pilato di Bisenti che vediamo insomma in sovraimpressione come convertina scritto a quattro mani da Angelo Panzone che ringraziamo per la sua partecipazione e anche da Graziano Paolone che non è qui presente ma che è stato assolutamente essenziale alla redazione anche che siamo affiatatissimi non è facile scrivere a quattro mani noi ci riusciamo benissimo 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 quindi Graziano Paolone Angelo Panzone per questo libro siamo giunti alla fine di questo nostro appuntamento con Zoom In grazie Angelo grazie a voi e grazie ai nostri amici a casa l'appuntamento è con il prossimo numero di Zoom In Grazie a tutti